Belè, show! C'è campo per lui! Grandissimo Dennis Bergkamp! Ma l'interessante dello Pasco? Pelè o Reila, per la nera? E c'è il gol! Difesa lenta a rientrare di partenza che può essere pericolosa! Ed entra in rete! Goal! A metri! E il pallone dirisce dentro! E poi c'è ancora straordinario! Applausi! Applausi! Applausi!